Nessun consigliere regionale della Calabria ha richiesto o ottenuto il bonus IVA, lo rende noto, il presidente dell'Assemblea, Domenico Tallini, a proposito delle polemiche nazionali, sulla questione che ha registrato anche echi locali. Ho sentito personalmente tutti i componenti dell'Assemblea, precisa Tallini, e ho ricevuto ampia assicurazione che nessuno ha attivato la procedura presso l'Inpis. Per me, aggiunge il presidente del Consiglio regionale, la loro parola d'onore vale più di qualsiasi accertamento. Se qualcuno avessi mentito, ne risponderebbe alla sua coscienza, ai suoi elettori. Sono molto contento dell'esito della verifica, rivela Tallini, che rende onore a tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio regionale e ringrazio tutti i colleghi per aver risposto tempestivamente ai miei quesiti con estrema chiarezza e senza la minima reticenza. Proprio in queste ore è venuto a galla che, oltre ai tre deputati che hanno inchiassato il bonus Inpis destinato alle partite IVA durante l'emergenza coronavirus, nell'elenco ci sono anche consiglieri regionali, non della Calabria, con le loro indennità mediante sugli 8 mila euro al mese, ma che possono superare anche i 12 mila.